Terra Amara Anticipazioni, in questa puntata davvero speciale Zuleya farà una terrificante scoperta. Lutfai leggendo un articolo di giornale, scoprirà la vera identità di Mehmet Kara. Quale sarà la reazione di Zuleya? Se lo vuoi sapere rimani fino alla fine, perché ci sarà una bella sorpresa per te. Zuleya, dopo aver scoperto la vera identità di Akan, e dopo averlo denunciato alla polizia, la vita di Zuleya prende una svolta inaspettata. Il suo presunto fidanzato, Mehmet, rivela di essere in realtà Akan Gumusoglu, uno dei più ricercati contrabbandieri di armi a livello internazionale e un nemico giurato di Demir. Determinata a tagliare ogni legame con Akan, Zuleya decide di agire con fermezza, informando prontamente la polizia e rivelando pubblicamente la verità durante una conferenza stampa. Con voce decisa e determinazione palpabile, Zuleya si rivolge ai suoi concittadini e ai giornalisti presenti, sentendosi in dovere di condividere ciò che ha scoperto per il bene della comunità. La sua vita, che sembrava destinata alla felicità, è ora immersa in un turbine di eventi che cambieranno tutto. Con una determinazione rinnovata, Zuleya si alza in piedi per affrontare la folla. L'uomo che credeva fosse il suo futuro marito, Mehmet Kara, si rivela essere in realtà Akan Gumusoglu. Un nome che potrebbe non suscitare immediata risonanza, ma Zuleya è pronta a svelare la sua vera identità. Le sue azioni hanno lasciato un'impronta globale, dichiara con voce ferma, mentre la tensione nell'aria palpita e i presenti si scambiano sguardi sorpresi. Zuleya continua con determinazione. Akan Gumusoglu non è noto per il suo successo negli affari, ma per essere uno dei più pericolosi trafficanti d'armi internazionali. Le sue parole scuotono l'atmosfera, trasformando il mormorio in un clamore e facendo battere freneticamente i laptop dei giornalisti. Ciò che rivelo oggi non è frutto di congetture, prosegue Zuleya, ma di prove schiaccianti che ho consegnato alle autorità competenti. Con uno sguardo risoluto, Zuleya affronta lo scetticismo che potrebbe incontrare, so che può sembrare incredibile, ma di fronte alla verità non possiamo voltare le spalle. Con queste parole, lascia la sala in un misto di ammirazione e sgomento. La conferenza stampa si conclude con una serie di domande dei giornalisti, mentre Zuleya rimane salda, pronta a fornire ogni chiarimento. Con la speranza che la verità possa finalmente emergere e la giustizia possa essere fatta. Con una determinazione che lascia un'impronta indelebile, Zuleya continua a raccontare la sua storia, svelando ulteriori dettagli che mettono in luce la malvagità di Akan. Quest'uomo senza scrupoli, oltre ad essere il nemico di Demir Yaman, ha orchestrato un attacco alla loro villa, ha danneggiato la loro nave e ha inflitto dolore fisico e psicologico alla sua famiglia. Zuleya ammette con una sincerità che trasuda dolore e delusione di essersi lasciata ingannare da Akan, chiedendo scusa alla comunità per aver permesso a un criminale di infiltrarsi a Kukurova. Mentre la sua confessione risuona nell'aria, l'atmosfera intorno alla Holding Yaman cambia drasticamente, attratta dagli eventi insoliti che si stanno svolgendo. La rivelazione di Zuleya ha illuminato la crudeltà nascosta, aprendo la strada a un futuro carico di sfide e sconvolgimenti per la città. La polizia, con una dimostrazione straordinaria di forza e determinazione, circonda l'ingresso principale, attirando l'attenzione di tutti, soprattutto di Zuleya, che si trova lì per caso o forse per destino. Gli agenti si avvicinano con movimenti precisi e coordinati verso Akan, il cui atteggiamento fino a quel momento sembrava imperturbabile, come se fosse consapevole dell'inevitabile. L'aria intorno a loro diventava sempre più carica di tensione, e gli sguardi di tutti erano fissi su di loro, pronti a cogliere ogni minimo dettaglio dello spettacolo che stava per svolgersi. Nonostante la gravità del momento, Akan non mostrava alcun segno di paura o rabbia. Al contrario, il suo sguardo sembrava vagare tra la folla, come se in quel breve istante tutto il resto del mondo svanisse, lasciando spazio a una strana e silenziosa comunicazione tra lui e Zuleya. In quell'attimo, l'atmosfera si carica di un'energia misteriosa, mentre i due si scambiano uno sguardo carico di significato. La scena si evolve come un intricato gioco di destini intrecciati, con la speranza di risolvere il mistero che ha sconvolto le vite di tutti i presenti. Quando i loro sguardi si incrociano, Akan rivela un sorriso enigmatico, carico di significati sottintesi. Non è un sorriso di sfida né di amarezza, ma sembra quasi un gesto di rassegnazione, un tacito riconoscimento di tutto ciò che è accaduto tra loro. Zuleya, sorpresa di fronte a quel gesto, sente un misto di emozioni. Da un lato, la consapevolezza che agire in nome della giustizia era l'unica strada possibile, dall'altro il sorriso di Akan le ricorda che tra di loro c'era stato qualcosa di reale, un legame che, per quanto complicato, aveva lasciato un segno indelebile. Mentre Akan saliva nella volante, circondato dagli agenti con professionalità e vigilanza, il momento sembrava sospeso. Zuleya rimase immobile mentre la volante si allontanava, portando via un pezzo della sua vita. Nonostante la folla riprendesse lentamente il proprio cammino, lei si sentiva incredibilmente sola, carica del peso di una scelta giusta ma dolorosa. Cosa ne pensi? Fammelo sapere nei commenti e se vorresti il continuo della storia, scrivi il sì sotto il video. A presto, ciao!